ciao a tutti amici ogni tanto qualcuno mi scrive per chiedermi come mai non porto mai monologhi teatrali sul canale perché non ne ho mai avuto il coraggio e io non sono un'attrice teatrale quindi non so che risultati potrei ottenere se facessi una cosa del genere però dai ci si può sempre cimentare non vedo per quale motivo non mettersi alla prova ho cercato così sul web per vedere se trovavo qualcosa di interessante ne ho trovato uno scritto da stefano benni si intitola il monologo dv quindi buon ascolto e io speriamo che me la cavo il giorno che io nacque un sole improvviso meraviglioso entrò dalla finestra della sala parto e illuminò la scena mia madre lancia un trillo melodiosissimo da soprano senza sofferenza alcuna mi sparò in aria come una paletta di cannone io feci una doppia capriola e ricaddi esattamente tra le braccia del primario un uomo bellissimo brizzolato virile non fumatore e in quell'attimo miracolo per la gioia tutti i presenti ricrebbero i capelli a chi non li aveva si indurarono a chi li aveva e una suora cresimina si spogliò della sua palandrana rivelando un corpo stupendo abbronzato nato per l'amore e un infermiere rozzo bitorzoluto unto la prese lì per terra con il trasporto e la dolcezza di un quindicenne e miracolo tutti i malati si alzarono dai letti e invasero le corsie cantando battendo il tempo con le stampelle i gamboni di gesso ognuno reggendo la sua flebo come un dono è miracolo i collassati si riebbero i fratturati saldarono i nefritici filtrarono gli anemici rinsanguarono i diabetici si amareggiarono e tutti fecero cerchio intorno per vedere me la bambina più bella del mondo io v e ci si inoculò morfina si bevero sciroppi anche i più a lungo lungo dei genti si levarono dai loro capezzali secolari e alle loro piaghe da decubito erano diventati splendidi tatuaggi di draghi e di sirene e a casa dissero andiamo a casa perché abbiamo una casa parenti amore che ci aspetta e il primario dei primari vetusto barbuto occhi d'ardeggianti uno zeus disse ci dispiace che ve ne andiate questo ospedale sarà vuoto senza di voi e in quell'istante dalla sala operatoria venne un chirurgo alto bruno virile non inquisito e tra le mani sporche di sangue reggeva qualcosa di umido e rosso e al suo fianco c'era l'operato che si teneva la pancia così ma era felice non era affatto spaventato e il chirurgo alzò in alto la cosa umida e gridò guardate guardate cosa aveva in pancia il signore non era una metastasi no era un triciclo un piccolo triciclo rosso per me e io vi salì avevo solo dieci minuti di vita ma io vi salì e partì pedalando nel corridoio tra le ali di degenti plaudenti e dalle camere mi lanciavano chi cioccolatini chi vecchi biscotti chi libri o settimanali e gridavano non sappiamo più cosa farcene di queste cose siamo guariti e così uscì dall'ospedale tra lo scampanio delle auto ambulanze e fuori e fuori c'era una nebbia pesante densa soffocante e un ingorgo di macchine che fumavano per il calore come rocce vulcaniche e una canea di clacson e volticerei e dentro le macchine guidatori agonizzanti che morivano lentamente accelerando e uno degli ingorgati vedendomi rosea neonata sudata con il triciclo rosso che cercavo di passare davanti nella fila mi mirò aspettò spalancò lo sportello dell'auto e bam mi centrò poi mi prese per il collo e disse credi che la vita sia tutta rose e fiori e puttanella fu allora che persi la fiducia nel mondo ma io spero di non essermela cavata troppo male vi ringrazio per avermi ascoltata fino alla fine spero che questa lettura in qualche modo zanzara maledetta prima o poi ti becco scusate e basta grazie per aver ascoltato un grande bacio dalla vostra rosanna ciao